Sicuramente non siamo stati sfortunati, però ai ragazzi non ho assolutamente a rimproverare niente perché hanno fatto il possibile, hanno fatto soprattutto un buon secondo tempo e era normale che nel primo tempo potevamo trovare delle difficoltà. Per quanto riguarda Montolivo, ha fatto una buona partita e credo che sia stata la seconda o la terza partita che gioca davanti alla difesa e quindi lì deve prendere dei tempi di gioco, deve sicuramente migliorare. Credo che Montolivo, ancora se no facendo sempre gli stessi discorsi veniamo a noia, io credo che facendo sempre gli stessi discorsi veniamo a noia per conto mio. Due anni che sento sempre gli stessi discorsi, quando con tutto il rispetto di Andrea Pirlo, e lo ripeto per le nese volte, è un campione, perché un anno e mezzo fa quando Milano ha vinto lo Scudetto Andrea Pirlo non giocava, non mi dicevate perché non gioca Andrea Pirlo. Andiamo avanti.